Feel the 90s Quindi dopo aver dato le notizie ascolteremo poi musica ci sarà comunque qui Aitonio con la recensione di un brano, collegamento VIP telefonico con Alberto Bertoli Dal salotto Ok, ricordiamo che tra poco ci sarà l'appuntamento con Aitonio e poi dopo la notizia del Mauri adesso Feel the 90s che vuole anche Aitonio Ciao Robby, come va? Bene, bene, bene Un sacco di tempo guarda che ti propino invado questa trasmissione con musica veramente leggera proprio non roba tua quindi quest'oggi ci ascoltiamo un brano più Robby Lavigliano che Aitoniano ma non ci allarghiamo non ti aspettare chissà cosa ti piace il rap a te? Molto, moltissimo Ti ricordi che cantava quella canzone che faceva qualcosa tipo Come la cantità, sì, Rihanna Esatto, era proprio Rihanna che se ti ricordi bene duettava col grande Eminem che è considerato da molti il dio del rap ebbene, dopo un tweet di Rihanna nel quale lei diceva di essere appena uscita dallo studio di uno dei suoi artisti preferiti inserendo poi l'hashtag Monster tutti cominciarono a vociferare a pensare ad un suo hit con Lady Gaga ma così non è stato perché Eminem successivamente ha poco dopo pubblicato la tracklist del suo album The Martial Matters LP2 cioè la seconda parte, no? di questo LP precedente ed è cominciato a girare dopo un po' qualche spoiler di questo duetto che poi i potenti delle grandi case discografiche non hanno esitato più di tanto intelligentemente, giungerei io a mandare in radio infatti sta spopolando da tutte le tante si tratta del loro quarto duetto dopo canzoni come quella che si è magistralmente riprodotto prima con la mia fantastica interpretazione oppure ad esempio una canzone che è contenuta in uno degli album di Rihanna ovvero NANDU loro hanno già lavorato insieme parecchie volte questa canzone è disponibile in dono digitale e probabilmente presto sarà acquistabile anche insieme all'intero CD nei migliori negozi di musica come è tradizione ma prima di ascoltarcela e gasarci un po' Robby permettermi di ricordare a tutti che potete venirmi a trovare sul mio canale di YouTube basta inserire nella barra di ricerca la parola I-TONIO scritta come I-TONIO come scrivete I-PAD, I-POD, I-FRANCE e basta che mi scrivete un messaggio lì nel quale mi indicate quali sono le vostre canzoni preferite i vostri album preferiti e magari ne parliamo anche in trasmissione insieme detto ciò basta parlare fomentiamoci come matti se siete alla guida mi raccomando alzate il volume ma guidate sempre con prudenza non fate pazzi ma gasatevi il giusto con questa canzone di Eminem e Rihanna che si intitola The Monster Eminem che è stato presentato da I-TONIO salutiamo I-TONIO lo potete trovare su YouTube digitando semplicemente I-TONIO come I-PAD come I-CALDO I-CALDO I-FREDDO I-CALDO I-FREDDO 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 Grazie a tutti.